Eccoci qui signori e signori per la premiazione della prima parte del concorso Modern TV. Premiazione appunto come vi dicevo prima della parte del classico e del contemporaneo. Prima di cominciare ricordo che le foto sono di photo emotion che potete trovare fuori e Patrizia Video, idem, nella hall del teatro, quindi alla fine della premiazione se desiderate potete appunto acquistare foto e video. Per quanto riguarda l'uscita delle ballerine e dei genitori e spettatori che sono stati presenti qui se non ballate dopo vi chiediamo gentilmente ai genitori di attendere le ragazze nella piazza del teatro o nel bar non all'interno della hall. Le ragazze invece potranno uscire se hanno ancora le cose dietro le quinte venire a ritirare le cose e uscire dalla parte del bar, dato che poi c'è la seconda parte per non intasare. Grazie comunque per la vostra collaborazione. Non vi faccio perdere altro tempo. Allora intanto per cominciare chiamo qui con noi la nostra giuria d'onore, quindi Raffaele Paganini, Andrei Della Roche e Ivano Braffa con le altre con un nuovo destino. Applausi. Allora procediamo e cominciamo con la premiazione della... Ah facciamo una foto alla giuria, scusate. Allora, foto di Rito. Allora, foto di Rito. Alzate tutti le mani. Perfetto. Allora, cominciamo con la premiazione della parte del classico, che ovviamente sarà fatta dal nostro maestro Raffaele Paganini. e cominciamo con il classico e neoclassico Baby a Solo. Il terzo posto, che vince un buono per il punto danza e lo stage a Rinsano in danza, vince la coreografia coppelia della scuola di danza arabesque. Secondo posto, che vince lo stage, danza in estate. fate ad Alassio un buono sconto per il punto danza, la coreografia La Piccola Tirolete di Arte e Magia. Terzo posto, Bevi a Solo, appunto, primo pre... scusatemi, abbiate pazienza. Primo premio, Bevi a Solo, che vince la borsa di studio Curma Iori in Danza e lo sconto presso il punto danza, la coreografia La Marinetta, Accademia d'Alpa Scenica. Grazie. 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 Procediamo con il classico Baby Gruppo. Terzo posto, che vince la borsa di studio Bogliasco Dance Festival, la coreografia Fantasia del Fanta Scenica. Sul palco, bimbe, sul palco, rimanete sul palco, bimbe. Secondo posto, che vince la borsa di studio a Rienzano in Danza, la coreografia, la film al Gardè, la danza di scuola... Grazie. 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 Primo posto, che vincono le borse di studio Curma Iori in Danza e Rienzano in Danza, la coreografia, le ultime notizie di Alpa Scenica. Grazie. 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 Procediamo con il classico Junior a solo. Terzo posto che vince il buono sconto presso il punto danza e la borsa studio Vivi Danza in Cilie, la coreografia Vardal Faust della Naima Academy. Secondo posto che vince lo stage Città di Rapallo e lo sconto presso il punto danza, la coreografia Ioli del DAC Danza e Cultura. Il primo posto che vince lo stage internazionale Genova in Danza, lo stage Curma Iori in Danza e lo sconto presso il punto danza, la coreografia Vardal Faust della Repertorio del Feridol in Pantacento. Procediamo con il classico Junior Duo, terzo posto che vince la borsa di studio Vivi Danza in Cilie, la coreografia Passo a Due Contadini da Giselle dello studio Danza Luccoli. Secondo posto vince lo stage Città di Rapallo, la coreografia Vardal Faust della Repertorio del Feridol in Pantacento. Primo posto che vince lo stage Curma Iori in Danza e lo stage internazionale Genova in Danza, la coreografia Duetto del DAC Danza Cultura. Procediamo con il classico Junior Gruppo, terzo posto che vince la borsa di studio Vivi Cilie in Danza, la coreografia Danza della Scuola Dac Danza e Cultura. Secondo posto che vince lo stage Città di Rapallo, la coreografia Razzo di Cilie. Grazie. 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 Il primo posto che vince lo stage internazionale Genova in Danza e lo stage Curma Iori in Danza, la coreografia Bullismo. Grazie. 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 Certo, assolutamente. Allora, timbre, logicamente rimanete ancora in platea perché alla fine poi anche della premiazione di contemporaneo, quindi con la premiazione classica primo, secondo e terzo, ci saranno logicamente le borse di studio date proprio dai nostri giurati, quindi rimanete in platea ovviamente. Allora, procediamo con la premiazione di contemporanea che ovviamente in questo caso verrà effettuata da Andrè De La Roche. Chiedo di venire qua vicino a noi, ok. Allora, passiamo quindi contemporaneo, baby e junior punificati a solo, terzo posto che vince lo sconto presso il punto dance e lo stage città di Rapallo, la coreografia di Ilenia Iaquinta in evoluzione. Secondo posto che vince la borsa di studio Danza in estate a Lazio, la coreografia Al di là dell'apparenza Dance Project. Primo posto che vince la borsa di studio Danza in estate a Lazio, la coreografia di Indonesia e la coreografia di Rio de Janeiro è il punto dieur di studio Danza in estate a Lazio, la coreografia di Milano. La borsa di studio Vivi Danza in Ciriè, la borsa di studio Bogliasco Dance Festival e lo sconto presso il punto danza, la coreografia Un Vento Leggero Mi Porta Via, Naima Academy. Passiamo al contemporaneo Junior Duo, terzo classificato vince la borsa di studio Vivi Ciriè in Danza, la coreografia Settebello del DAC Danza e Cultura. Secondo classificato vince la borsa di studio Stagi Internazionale Genova in Danza, la coreografia Sunset on the Beach, Naima Academy. Primo posto vince la borsa di studio Stagi Internazionale Genova in Danza e la borsa di studio Curmaiore in Danza, la coreografia Riven del DAC Danza e Cultura. Passiamo al contemporaneo Baby Junior Unificati Gruppo, terzo posto che vince la borsa di studio Bogliasco Dance Festival, la coreografia Tip-Tac. Grazie a tutti. 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 Secondo posto vince la borsa di studio stage città di Rapallo la coreografia percorsi incrociati Golden Blue Primo posto vince la borsa di studio curmaiori in danza e la borsa di studio danza in estate a Lazio la coreografia Un mondo per comunicare della Dance Project Grazie Passiamo adesso a contemporaneo a solo i duo senior Terzo classificato che vince la borsa di studio Bogliasco Dance Festival la coreografia Occhi, foglie di vetro, studio danza Luccoli Secondo classificato che vince lo stage città di Rapallo e Pilates e Natura la coreografia This Place was a Center per il centro studio danza Ventimiglia Primo classificato che vince lo sconto presso il punto danza, lo stage intenzionale Genova in danza e Trentino danza in estate la coreografia Sospiri di ricerca Naima Academy Passiamo ora al contemporaneo senior gruppo Terzo posto vince lo stage città di Rapallo la coreografia Incongruo Rapportarsi, centro studio danza Ventimiglia Secondo classificato vince la borsa di studio Bogliasco Dance Festival e Pilates e Natura la coreografia Time Mamadam Mamadam Primo classificato vince la borsa di studio danza in estate, lo stage internazionale Genova in danza la coreografia Passato, presente e passato Naima Academy Passiamo adesso ad un premio un po' speciale, premio del miglior talento per questa prima parte dedicata al classico e contemporaneo il premio del miglior talento è vinto dalla coreografia Un vento leggero mi porta via dalla ragazza Paonessa Giada ok allora qui si conclude diciamo la premiazione come vi dicevo ma ci sono delle borse che vengono erogate dai nostri giurati, ora quindi lascerò la parola a loro e meglio di no vieni André ti lascio la parola a te sono tre due uno per il vostro studio a Abaddonia il 68 luglio c'è anche il Raffaele Lager e sarebbe, sono tre giorni sono il primo gruppo nell'ultima notizia e il gruppo di bambini questo è uno secondo secondo unizimo 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 Grazie. Passato, presente e passato, il signore di questo caso. Lascio la parola a Raffaele Paganini. Grazie, allora buonasera a tutti. Sì, è un piacere essere qui con me, principalmente con tutti voi, naturalmente, con i miei colleghi e anche con i vostri genitori al pubblico qui questa sera. Grazie per essere intervenuti, è un grande piacere. Specialmente un consigliato meraviglioso. La prima cucchiavo, la seconda cucchiavo, con te, con te, con te, con te, con te, con te. Io credo di averci parlato qui. Ci sono 82 anni fa. 83! Allora, io ho assegnato alcune porte di studio. Volevo precisare qualcosa. Io normalmente... Quale mi capisco? Ah, lo devo tenere vicino, come Pippo Paolo. Di solito io non do la porta di studio ai più bravi. Non la do neanche ai meno bravi. La do a quelli che mi danno, in quel momento, un'emozione. Quindi, sono borse di studio che io do al nostro sportivo emotivo. Non per la bravura. Ci tenevo a dirlo così. Dunque, la prima porta di studio viene data al classico baby, gruppo che hanno danzato Fantasia. ferito! A buon bel ruolo! Ok, sempre classico junior, a solo, Jolini. Allora, mentre assegno l'altro borda di studio, questa è una borda di studio che è valida per uno stage che sarà dall'8 al 12 luglio, in Roma, all'atelier della danza della mia scuola, dove si studierà per quattro giorni classico, moderno, contemporaneo, ogni giorno, per cui tre lezioni torno, ogni giorno con me e con altri miei insegnanti di riferimento. Andiamo avanti, classico junior gruppo, Rhapsodian Blue. Andando avanti, contemporaneo, senior, è la solo sospita, che è la mia scuola, di riferimento. L'ultima, del contemporaneo, senior gruppo, Thai. Complimenti, ragazzi. Allora, venite fammi qui, mi amici, che è accomodabile. Grazie. 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 Grazie.